134 milioni di euro entro il 2024, di cui oltre 50 milioni per il primo stralcio delle proposte già approvate. Queste le risorse nel salvadanaio del Fondo Comuni Confinanti, destinati a dare nuovo slancio alla provincia dolomitica, attanagliata come ben noto dal dramma dello spopolamento, ma anche da non poche altre criticità, alle quali con la nuova programmazione del Fondo si vuol contribuire a dare delle risposte. Tre dunque le aree di intervento, quella dei servizi sociosanitari, della mobilità sostenibile e del sociale. Penso che sia questa una programmazione molto importante che riguarda diversi settori dell'ambito del nostro territorio provinciale, che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini bellunesi e anche dal punto di vista turistico. Ecco perché i nostri interventi guardano alla sanità, all'impiantistica sportiva, in parte anche a opere di restauro e di recupero. Diciamo che è un percorso molto complesso, che è arrivato a destinazione grazie all'apporto soprattutto dei sindaci, che hanno condiviso delle scelte e che noi abbiamo presentato primi di tutti al Comitato Paritetico di Trento, ottenendo l'assenso. Opere di completamento della valorizzazione del Giro del Lago Centro Cadore, la realizzazione della Cittadella dello Sport a Calalzo, l'implementazione della tecnologia in uso alla gastroenterologia di Feltre, sono solo alcuni dei progetti tesi a portare delle migliorie alla provincia, che guarda naturalmente al grande appuntamento con le Olimpiadi 2026. L'idea è sempre stata quella di dire interveniamo con una serie di infrastrutture, interveniamo con una serie di interventi per la qualità della vita dei cittadini, ma l'ottica è quella di dire che nel 2026 avremo le Olimpiadi, quindi noi dobbiamo in qualche maniera garantire a tutti una migliore accessibilità, una migliore salute, una migliore qualità della vita, che sia il nostro cittadino ma che sia anche un cittadino che viene da fuori. Chiaro che l'obiettivo è poi fare turismo, fare cassa, fare business, diventare una grande provincia accogliente.